Singolare protesta oggi della presidentessa del Casa dei Randaggi di Augusta che ha portato quattro esemplari di cani che ha ricoverati presso la sua struttura qui in Comune. Il perché di questa iniziativa? Allora questa iniziativa parte da un presupposto ovvero il fatto che non abbiamo mai e dico mai in cinque anni avuto alcun sostentamento da parte del Comune per tutti i 1600 cani che sono passati da noi e quindi noi ci sosteniamo solo attraverso eventi, iniziative che ci aiutano a raccogliere un pochino di fondi. Ne stavamo organizzando una per il 20 settembre, la data della richiesta è il 24 giugno e abbiamo aspettato fino al 7 settembre per avere un rifiuto non del solo pubblico perché quello ci veniva concesso ma del patrocinio riguardo alla tassa di affissione dei volantini, dei manifesti che sarebbero stati per pubblicizzare l'iniziativa è il rifiuto di una presa elettrica per attaccarci con due microfoni. Ora a questo punto io non ho ritenuto assolutamente giusto che mi arrivasse una risposta per telefono nemmeno scritta da parte del Comandante di Giorbani dopo due mesi e mezzo e a ridosso dell'evento perché a me ha bloccato tutte le iniziative, non ho potuto far niente. E a questo punto io non intendo più farmi carico dei cani che ho ricoverati nel mio rifugio, parlo ovviamente di quelli intestati dal Comune d'Augusta perché non ci sono solo quelli. Quanti sono? Sono 15 o 16, ho il dubbio su uno perché ne ho uno che in effetti è un cane di quartiere ma ho il dubbio su quello lì. Essendo un cane di quartiere reimmesso diciamo che è una mia iniziativa per tenerlo dentro da me ma non per questo io chiedo sostentamento al Comune, chiedo sostentamento per gli altri e chiedo anche un terreno dove poter tranquillamente svolgere la nostra attività di volontariato. Questi cani oggi qui al Comune che cosa intende? Gli ho riportati perché ho mandato una lettera al Vice Sindaco in data 9 settembre e ad oggi non ho avuto alcun riscontro. Io mi sono stancata di aspettare. Quanti siete i volontari che portate avanti questo? Siamo 4. Dove siete allocati attualmente? In Contrata a Vetrano, via Moreno. Oltre ai cani del Comune quanti cani ospitati? Ci sono altri, sono in totale 30, sono altri 16, 14 o 16 cani di proprietà dell'associazione. Sì, c'è stato un malinteso, una comunicazione non chiara perché riguardo la concessione di terreno per una manifestazione che la signora ha dovuto rinviare. Questo ci dispiace perché non era assolutamente nostra intenzione provocare il fallimento di questa manifestazione. La nostra intenzione è assegnare il terreno. Purtroppo non c'è stata una debita informata, comunicazione scritta. La signora ha ritenuto opportuno rinviare in assenza di questo chiarimento. Ma ripeto, noi eravamo assolutamente disponibili a concedere questo terreno. Detto questo, posso dire che per quanto riguarda la nota di protesta della signora, che lamentava appunto la presenza di cani affidati al Comune nella sua struttura, abbiamo risolto temporaneamente questo. Affideremo alla signora, nei limiti ovviamente previsti dalla legge e consentiti dalla legge, questi cani ancora per un determinato periodo di tempo, nell'emore che si faccia una manifestazione di interesse per associazioni che sono interessate alla costruzione di canili rifugio, previ assegnazione di terreni da parte del Comune. Manifestazione che andremo a fare da qui a breve tempo. Il Comune ha affidato ad una ditta esterna nei mesi di luglio e agosto il servizio di calappamento e custodia dei cani randaggi che imperversavano nel territorio. Per quanto riguarda invece i prossimi mesi? Noi saremo costretti a prolungare questo servizio e a servirci ancora di questa convenzione fino a quando non riusciremo con nostre disponibilità a creare dei canili rifugio onde in cui accogliere i cani e i cani randaggi e cercando anche di eventualmente ridurre la popolazione demografica riprendendo le sterilizzazioni. Ci siamo prefissi di fatti il compito di ristrutturare l'ambulatorio che era preposto a ciò che era un po' malandato e quindi entro poco tempo abbiamo reperito dei fondi l'ambulatorio sarà nuovamente attrezzato e potranno riprendere le sterilizzazioni. Per quanto riguarda il servizio di accalappamento dei cani randaggi dovremmo servirci ancora per qualche tempo della ditta che è in atto con noi una convenzione, ripeto, fino a quando non potremmo noi fruire dei canili nelle more che come da nostro programma si possa costruire un canile sanitario municipale, proprio comunale.